L'arma è un'estensione da... Lord Sakai. Ottimo lavoro. Grazie a te, ho un esercito per riconquistare il castello. Te l'avevo detto che Yuna era in gamba. Sto già preparando la sua ricompensa. I rinforzi dello shogun saranno presto qui. Ma prima che arrivino, dobbiamo risolvere un problema. Le spie hanno intercettato gli ordini del Khan. Erano per Ryuzo. I suoi mercenari sono pronti a fiancheggiarci. Sai dov'è Ryuzo ora? Vicino, al forte Koyasan. Non serve che lo affronti tu stesso. Era mio amico. Me la vedrò io. Fa quel che devi. Al tuo ritorno l'esercito sarà pronto a marciare. Forse Yuna verrà con me. Non possiamo portarci tutto. Tu che cosa lasci? Più di quanto immagini. Troveremo lì nuovi attrezzi. Te ne vai. Tuo zio è stato di parola. La nostra nave salpa domattina. Aiutami un'ultima volta. Ryuzo si nasconde a forte Koyasan. Non posso. Ti prego di capire. È tutta una vita che aspetto. Soffro la fame. E rischio la pelle per racimolare qualcosa e ricominciare una vita in Giappone. Non posso mollare ora. Non te lo sto chiedendo. Aiutami con Ryuzo. E poi ci saluteremo. È la tua battaglia, Gen. Non la mia. Voglio solo poter ricominciare una nuova vita. Non ti fermo allora. Grazie, Yuna. Di tutto. Spero che troverai pace. Anche tu. Signore. Ascolta tua sorella, Taka. Avrà cura di te. Addio. Lor Sakai. Posso farcela da solo. Nelle ombre della notte. Vengo a prenderti, Ryuzo. Vengo a prenderti, Ryuzo. Vengo a prenderti, Ryuzo. Due a round. Lett'entr highs in Giappone. Vengo a prenderti, Ryuzo. Vengo a prenderti. Vengo a prenderti. Forte Koyasan, un cuovo di traditori. Farò ricognizione. Mongoli, come se non bastassero i cappelli. Aspettate! Lorzakai! Ssh! Ci farei scoprire! Non vi lascerò solo. Se non vi accompagna Yuna, vi accompagnerò io. Non sei preparato? A Yarikawa diceste che se restiamo uniti possiamo salvare il paese. Io sto con lo spettro. Non puoi aiutarmi coi Mongoli. Se ti accadesse... Fatemi creare almeno un diversivo. Ne porto via qualcuno. Vi facilito le cose. Va bene. Quando ti inseguiranno, torna immediatamente al campo. Non vi deluderò. Vai, cominciamo. Va bene. Cani! Voi Mongoli siete solo cani di bastardi! Direo al nonci burra che siete qui. I sapunai verranno a cercarli. Daieranno le vostre teste. Godardi! Per chi non mi ha già vinto? Allora! Qu'è un cuore? L'escrizione! E lui è un piede! L'escrizione! È un piede! È un piede! Ha mai avuto! Non so, non so, non so! No Tossa! No Ryo-jo! Felice di rivederti Sai perché sono qui? Sì Ho fatto in modo che sapessi dove trovarmi Il Khan vuole vederti Non sono qui per parlare Hai tradito tutti Possiamo salvare il paese insieme Non deve finire per forza così Sì, Ryud È necessario Lorsakai! Lorsakai! Vi prego, svegliatevi! Taka Come? Non tornavate Temevo foste in pericolo E volevo aiutarvi ma i mongoli mi hanno preso Diamine Dobbiamo liberarci Ci uccideranno Non lo faranno Prova a liberarti Devo allentarla Taka Coraggio Sarai assetato Ai, Rang Latte della mia cavalla migliore Il suo ultimo dono Ieri si è rotta la zampa Allora l'ho fatta macellare Noi facciamo ciò che va fatto Ecco perché siamo vivi, Lord Sakai Io sono un samurai Tu sei molto di più Tu sei lo spettro Convinci la tua gente a inchinarsi a me E dare a loro la pace Noi non potremo mai servirti Tu zio Disse lo stesso Quando gli chiesi di fermare la guerra L'infiutò di essere tuo schiavo Anch'io stimolo la mia famiglia E so cosa vuol dire vivere nell'ombra Perché accontentarsi quando meritiamo di essere leggende Lui lo è già Vedi? La tua gente ti segue Unisciti a me e salvali Tu vuoi soltanto dividerci Come hai fatto con Ryuzo Noi no Alla tua leggenda Non importa nulla di te Se lo uccidi Puoi andare Scappa 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 Emu, ti aiuto! Il tuo amico è morto. Per te. Ne troverò un altro, e tu dovrai scegliere ancora. Per te. 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 Yuna. Ho appena visto il canno insieme a Ryuzo. Dov'è Taka? So che è qui. Ha lasciato un messaggio, diceva che ti avrebbe seguito. Dov'è? No 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 Yuna, aspetta Tata Non doveva essere qui Perché ha disobbedito No No Voleva che fossi orgogliosa di lui Voleva essere come lo spettro Non dovevi lasciarlo venire Ho provato a fermarlo Ma lui voleva rendersi utile È d'attacco È scappato Dovremmo andare Non lo lascio qui Non lo lascio qui Bastardi Bastardi Non lo lascio Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Grazie a tutti.